Ci troviamo di fronte al carcere di Imperia in compagnia del segretario regionale del SAP, il sindacato della polizia penitenziaria Michele Lorenzo. Una visita per capire meglio quelli che sono i problemi che ci sono sia nella casa circondariale di Imperia che in generale anche in quella di Sanremo. Io aggiungerei a Tavici i problemi a questo punto perché ormai sono anni che stiamo denunciando questo totale stato di abbandono degli istituti di Imperia e di Sanremo. Sanremo è balzata sulle cronache degli ultimi giorni per una serie di eventi critici che stanno mettendo in ginocchio la polizia penitenziaria che è deputata alla sicurezza dell'istituto e Imperia perché si sta proprio asciugando, prosciugando di organico. Non abbiamo più un reparto di polizia penitenziaria femminile qui dentro, adibita oltretutto idonea al controllo dei familiari che accedono ai colloqui detenuti. Non abbiamo più il vice comandante di questo istituto, quindi l'unico commissario presente deve fare da direttore perché non c'è nemmeno il direttore, quindi deve fare da comandante, da direttore, da vice comandante e anche da ispettore perché Imperia, ahimè, non ha nemmeno ruoli ispettori. Quindi un istituto che si sta letteralmente svuotando di coloro che rappresentano la sicurezza di contro sta aumentando la popolazione detenuta. Stiamo toccando le 100 unità quando questo istituto ne potrebbe contenere 60. Quindi Imperia e Sanremo pagano lo scotto dei chilometri, siamo troppo lontani da Genova. Alternative al carcere che stentano a decollare man mano che ci sia lontana dal capoluogo regionale. Infatti questa è la prova, se questi due istituti stessero più vicini a Genova, questi problemi non li avremmo. Siccome siamo al confine e magari lontano dagli occhi problemi non ce ne sono, la Polizia Penitenziaria è costretta giornalmente e quotidianamente a rischiare la propria pelle per garantire la sicurezza. Senza strumenti, non abbiamo metal detector, non abbiamo radio ricetrasmittenti, non abbiamo le dotazioni di protezione individuale per fronteggiare eventuali feriti. L'ultimo caso emblematico è quello dell'ospedale di Imperia dove un detenuto con seri problemi psichiatrici ha letteralmente sfasciato prima due celle all'interno del carcere di Sanremo e poi ha sfasciato una camera ospedaliera. Allora queste drammaticità, perché sono drammi umani che bisogna capirli, non possono essere gestiti in un istituto. devono andare in strutture esterne, in strutture protette che sono meglio deputato rispetto all'istituto che deve tendere alla riduzione del condannato alla cura mentale e psichica del soggetto detenuto. Vincenzo Tristaino è il delegato Sappe per quanto riguarda il carcere di Imperia. È un carcere sovraaffollato e pieno di problemi. Effettivamente è un carcere sovraaffollato, pieno di problemi. Siamo arrivati a quasi 100 detenuti, quando mediamente ne dovremmo sostenere 80. A questo si aggiunge una forte carenza di personale, di circa 18 unità, la mancanza di personale femminile, un sovraccarico di lavoro dovuto all'unificazione del Tribunale di Sanremo con quello di Imperia. A questo si aggiungono altri problemi per quanto riguarda i mezzi, l'abbigliamento, il vestiario che abbiamo in dotazione. Si chiede a gran voce che vengano ripristinate le unità mancanti presso questa sede per garantire al meglio la sicurezza, visti gli ultimi eventi critici che ci sono stati. Tra l'altro nei mesi scorsi i vostri colleghi sono riusciti anche a intercettare droga e d'altro che stava per entrare nelle celle attraverso le visite dei parenti. Sì, effettivamente c'è stato un grosso sequestro di droga, penso uno dei più grossi in tutta Italia. Quasi 600 grammi di eroina che sarebbero potuti entrare all'interno dell'istituto. E fortunatamente grazie all'attenzione da parte dei colleghi della penitenziaria di Imperia si è riusciti ad operare in maniera perfetta e a sequestrare questo grosso quantitativo di droga. Vincenzo Postiglione, delegato del SAP per quanto riguarda la carta circondariale di Sanremo. Un carcere dove voi denunciate che sono stati concentrati un po' troppi detenuti con problemi psichici e in pratica non ce la fate più. Esattamente, c'è un grido d'allarme del reparto della polizia penitenziaria della casa circondariale di Sanremo perché abbiamo una concentrazione, tra virgolette mi permetta il termine, anomala di individui borderline con problemi psichiatrici che fanno sì il moltiplicarsi degli eventi critici giornalieri. Eventi critici in cui il personale della polizia penitenziaria, grazie alla forte professionalità, riesce a evitare spesso e volentieri eventi ben più gravi. Faccio presente che spesso si è senza completamente dispositivi di protezione individuale. Lo stesso organico è deficitario in quanto a fronte di una pianta organica sulla carta ben determinata mancano 40-50 unità tra distacchi e emissioni. Quindi vi è un lavorare in emergenza. Ci sono anche detenuti malati e anziani? Esattamente, abbiamo dei detenuti che possiamo definire... Non pericolosi però. Non pericolosi, minorati fisici, però come previsto dalle normative dovrebbero essere ristretti in istituti ad hoc che abbiano dei reparti dedicati a loro e sicuramente la casa circondariale di Sanremo non li ha. Che iniziative pensate di poter intraprendere per sensibilizzare le istituzioni? Beh, sicuramente abbiamo... ci ha fatto piacere di aver incontrato il prefetto di Imperia che si è reso... che ha ascoltato le nostre richieste e per quanto di sua competenza farà il suo intervento. Ma noi siamo già pronti a scendere in piazza. Faremo una manifestazione sicuramente a Sanremo per dimostrare, per denunciare ai politici assenti, i politici assenti, alla nostra amministrazione che forse non sa nemmeno dove né Imperia né Sanremo se non perché col festival di Sanremo si rendono conto che esiste la città dei fiori, per denunciare in una pubblica manifestazione e con un sit-in di protesta la drammaticità, anzi l'azzeramento del livello di sicurezza di Sanremo e di Imperia. Il direttore, 25 anni in uno stesso istituto, forse è anche ora di alternarlo.